Ciao a tutti benvenuti sul mio canale, oggi parleremo della piattaforma di TikTok e quello che c'è dentro a questa piattaforma, ma prima di incominciare vi dico molte grazie per i video, stanno andando a buoni risultati. Ti chiedo di mettere un like a questo video, lo so che ancora non hai messo like al video, finché non lo metti non parlo. Lo hai messo, ok mi fido? Oggi come avete letto dal titolo parliamo di TikTok e dei personaggi che ci sono dentro, in questi giorni mi stanno scoppiando i perte di questa ragazza, ma che cazzo di problemi avete? Che scrivete che sembra la sorella di un cristiano che non ha un capello in mezzo alla testa, ma poi avete visto il sosia di Mr. Bean e quello sì, niente da dire su Rowan Capocchia, ma io dico no la cristiana che sembra la sorella di un cristiano con i peli che non ha in testa ma nel culo sicuramente li tiene però vabbè, ma poi tant'è signore nei commenti sotto a qualche video di una persona che va ad Hollywood e scrivono Ah 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 invece di stare a Hollywood vai a prendere le melanzane ma voi che cazzo vi interessa? Beh beh anche io sarei un po' geloso, perché io amo Hollywood, però è un altro discorso, ci sono tante cose, ma solo io quando giro su TikTok tengo una sfaccima di mano in bocca e giro poi se tengo un cazzo da dire parlo solo io. Non parliamo dei spoiler che lasciano su TikTok quando stava per uscire una singola sfaccima di stagione di mare fuori? Mettono i spoiler a non finire. Spero che ora non vedo nessun spoiler più perché se no metto dei fuochi d'artificio sotto all'azienda di TikTok e faccio venire capodanno prima del tempo, quindi mi metto una mano in faccia una mano in culo e zitto mi sto. Spero che il video vi è piaciuto lascia like ed iscriviti al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!